La caratteristica principale di Andreola è quella di produrre un prosecco che noi chiamiamo eroico. Eroico non è chi lo beve, ma eroico è chi lo produce. Andreola online si trova all'indirizzo andreola.eu. Abbiamo scelto il dominio.eu proprio per aiutare la comunicazione di Andreola a trovare fin da subito una dimensione internazionale. Sicuramente l'Italia è riconosciuta in tutto il mondo per la sua tradizione aneogastronomica. Il prosecco è un prodotto famoso in tutto il mondo. Nel caso di Andreola parliamo del prosecco superiore di Valdobiadene Conegliano, che riguarda una ristretta zona nella marca trevigiana, nella provincia di Treviso. La denominazione di origine controllata e garantita identifica il massimo livello qualitativo di prosecco che possiamo avere. La cosa più importante che si può dire del prosecco al palato è il fatto che sia un vino molto fruttato, frutti freschi, lacacia, facile da bere, che si adatta bene alle situazioni allegre e il feedback che otteniamo è positivo veramente da una parte all'altra del pianeta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.